buongiorno allora inizio il vlog adesso perché è ancora mattina presto noi stamattina ci siamo alzati esattamente alle 7 7 7 e mezzo abbiamo fatto colazione fuori e siamo stati da amici nostri che praticamente qua c'è la tradizione c'è la tradizione della vendita delle palme quindi la domenica delle palme insomma e quindi c'è stata questa vendita di palme sono le 9 e mezzo quindi sono le 10 meno 20 noi stiamo andando a vedere se il centro commerciale aperto sì io c'ho i baffetti dovrei farli tra l'altro c'ho questo brufolo qua quest'altro qua i baffetti proprio mai mai comunque noi seggiolone ma c'è il seggiolino la seggiolina di clou in macchina ce l'abbiamo è perché una ragazza scritta ma non mettete con il nella sua sedia no ce l'abbiamo solo che molte volte clou e non ci vuole stare piangono una disperata quindi la togliamo andiamo la al bazar andiamo a frangere il bazar niente quindi adesso andiamo ad un diciamo grande magazzino sì è un grande magazzino di cinesi no è aperto gira che è aperto dai dai gira no dovevo prendere una cosa vabbè tutti i tini ok quindi praticamente niente non andremo da nessuna parte perché mio marito ti annoia ti annoia ti scoccia far tutto in realtà eh vabbè voglio andare da qualche parte scendiamo a selinunte ok e niente quindi il seggiolone ce l'abbiamo come stavo dicendo e niente oggi è domenica delle palme vediamo cosa fare e no è a casa che dorme con le mie sorelle non l'ho svegliata perché ci siamo alzati prestissimo non c'avevo voglia di svegliarla presto visto che è andata a letto tardi quindi non c'avevo proprio voglia di svegliarla e poi fa un c'è c'è il sole quanti gradi ci sono ci sono 17 gradi c'è il sole però c'è quel venticello un pochettino fresco che vabbè questo niente adesso vediamo cosa fare e ci vediamo un po' e niente hanno insegnato che si guida ah c'è la corsa ok ci dobbiamo fermare e vi faccio vedere vi faccio vedere perché ci hanno fatto fermare non lo so un 500 biciclette perché ci sono ecco un 500 biciclette praticamente c'è la gara di ciclisti qua non so che cosa sia ci sono 3000 ciclisti Va bene Avete capito Persone fuori dalla macchina Ma si ma figurati Cioè questa Ambulanze Vanno tutte le persone dietro ciclisti C'è questa gara Quindi Ci saranno 500 ciclisti E poi io non so perché Io paragono i ciclisti Ai cinesi Perché i cinesi sono tutti uguali Adesso ditemi se non è vero Ma per me i cinesi sembrano tutti uguali I ciclisti lo stesso Quindi non sono Ti piace il ciclista? Quanto danno ha fatto questo? Vabbè praticamente questo Secondo me i ciclisti sono tutti uguali come i cinesi Pollice in su per questa battuta Niente Vediamo cosa fare Ci vediamo dopo Ciao Parola da banì Parola da banì Parola da banì dai dai grida invoglia la persona a comprare le palme io li vloggo si zutta ti mette Sto vloggando Ciao amore Hai visto il pane Vuoi il pane? Vuoi il pane amore? Non ci va Saluta Chloe Vai ciao con la manina Ciao Ecco qua La mia topina Che dite che nel seggiolone non ci sta mai Ma eccola qua La mia gna 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 stai facendo Come è il pane? Il pane com'è? Troppo corto Troppo corto E niente quindi Oddio c'ho dei capelli gonfissimi Di pomeriggio scendiamo al mare Così riporto il mare Così riporto Chloe al mare Perché quando ho visto il mare Chloe era piccolina Adesso invece è più grandicella Qualche mese più grande Però i mesi fanno la differenza Comunque niente Stiamo tornando da Clelia e Raffa E quindi ci vediamo dopo Segui un po' di più E quindi ci vediamo E quindi ci vediamo E quindi ci vediamo E si vediamo Mamma, 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 mamma. Mamma, 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 mamma. Mamma, 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 mam Tieni amore, la vuoi? La vuoi? No, non si toglie la fascetta Aspettate Tieni Ma non ho fatto giovedì Ma non mi piace giovedì? Ma non mi piace giovedì? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai mamma mamma ma mamma 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. 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 Ciao.